A Fano sono partiti a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via del risorgimento. L'area che si presentava ormai in uno stato pietoso per gli avvallamenti e le grosse pozzanghere che si verificavano ad ogni pioggia finalmente avrà un nuovo volto grazie a 88 posti auto e moto gratuiti, una illuminazione con 21 punti luce e alla piantumazione di oltre 32 piante e arbusti tra siepi e rose. Questa mattina operai all'opera con pale e cemento per concludere entro la fine di dicembre il cantiere. A controllare l'andamento dei lavori l'assessore Barbara Brunori che ora possiede la delega dei lavori pubblici. La realizzazione di questo nuovo parcheggio in via risorgimento aveva quattro obiettivi strategici. Il primo era quello di andare a regolamentare quello che era la sosta selvaggia che naturalmente creava poca sicurezza sia le auto che i pedoni all'interno di questo spazio tra l'altro in uno spazio in pendenza e con grandi disagi di ristagno d'acqua. La seconda aumentare un po' la capienza di quelli che erano le soste proprio per favorire una migliore fruizione sia ai residenti ma anche agli esercizi al cittadino che si trovano qui attorno. Come terza avevamo la riqualificazione di un'area che era un po' in degrado e la quarta funzione era proprio di creare una connessione veloce e immediata col centro storico realizzando un nuovo passaggio all'interno dell'area dei passeggi che mettesse in sicurezza e in diretto collegamento con la città. Non solo creeremo 88 nuovi stalli ma saranno anche realizzati con degli autobloccanti drenanti e con una pavimentazione poi nella parte del transito filtrante. L'intervento riguarderà anche un nuovo marciapiede realizzato sia all'interno del parcheggio e all'esterno che andrà poi a collegarsi con i passeggi. In più verranno installati nuovi arredi come panchine e cestini e infine verranno realizzate due scalinate in legno che permetteranno di collegare in sicurezza il parcheggio con vie del risorgimento e il parco urbano. Molto importante è proprio anche il fatto stesso che il parcheggio sia oggi accessibile a tutti gli effetti, accessibile vuol dire vivibile in tutte le sue parti e fruibile da tutte le persone sia normodottate che con disabilità tanto che verranno realizzati anche due parcheggi proprio per persone con disabilità. Penso che questa sia un'ottima risposta di servizio per la città, un servizio che è legato sia appunto alla maggior e miglior fruizione degli spazi con la messa in sicurezza anche dei pedoni tanto che ci sarà anche un percorso ciclabile pedonale che si connetterà all'interstizione con via Roma ed è anche molto importante perché c'è stata anche una forte attenzione sull'ambiente con il potenziamento del verde e anche con delle strutture proprio pavimentazioni che sono drenanti e quindi favoriscono quello che è l'alimentazione del sottosuolo proprio per le falde acquifere.